Brando Efrician, extronista di Uomini e Donne, ha risposto alle accuse di tradimento della fidanzata Raffaella Squotto. Tuttavia, meno di 24 ore dopo, è arrivata l'annuncio della rottura da parte di Raffaella. I due si sono lasciati. Raffaella ha annunciato la fine della relazione sui social, sottolineando che la storia con Brando è stata reale e sincera, ma che ora non sono più insieme. Tejanira Marzano, esperta di gossip, aveva condiviso una segnalazione riguardante Brando visto a cena con un'altra ragazza a Venezia. Ma Brando aveva smentito queste voci. Brando ha risposto alla rottura con un lungo sfogo, dichiarando di non aspettarsi di trovarsi in quella situazione e di non accettare le diffamazioni gratuite. Ha sottolineato di essere una persona con principi sani e ha espresso la speranza che il tempo possa dimostrare la verità e che l'amore possa prevalere. Ha chiesto rispetto per sé e per Raffaella in questo momento delicato. La relazione tra Brando e Raffaella, nata durante Uomini e Donne, è giunta al termine dopo pochi mesi dall'inizio. I fan della coppia sono rimasti sorpresi dalla notizia della rottura, ma entrambi sembrano determinati a seguire il proprio cammino. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi riguardo.